eccoci qua ragazzi allora io vi consiglio di prendere una foglia da disegno e di dividerlo a metà come facciamo a scuola perché il foglio intero per voi risulta essere molto grande la metà foglio che avrete ritagliato la disponete in modo orizzontale come ho fatto io qua tenete presente che voi non avete davanti agli occhi il quadro da riprodurre quindi lo disegniamo insieme e potete utilizzare insomma la figura che ho io qui davanti potete fermare il video tutte le volte che vi accorgete di aver sbagliato tutte le volte che volete sistemare qualche cosa volete cancellare volete aggiustare fermate il video e poi ripartite allora cominciamo subito con il disegnare come abbiamo fatto prima la linea dell'orizzonte che è questa qua vi ricordo questa qui che avevamo visto prima ok allora non è fatta esattamente a metà è appena appena più in alto cerco di andare diritta ma con il mouse disegnare non è facilissimo con la matita è più facile e qui faccio questa parte tratteggiata che dopo cancellerò quando avrò disegnato la casa adesso che ho fatto questa linea dell'orizzonte posso anche decidere di fare subito le montagne vedete che le montagne non partono a metà partono da più spostate verso sinistra quindi io le faccio partire da qua e disegno una montagna un'altra che parte da qui non è che dobbiamo per forza farlo identico è facciamo in modo che assomigli un pochino eccoci poi anche qui abbiamo un'altra montagna teniamo presente che si fermerà prima questa montagna adesso la disegno ma sicuramente ne dovremmo cancellare un pezzo perché qua ricordiamoci che viene tutta la casa adesso tracciamo la seconda linea di terra quella più vicina a noi allora scendiamo un pochino vedete che lo spazio che io devo utilizzare è questo qua quindi più o meno mi metto qui e traccio l'altra linea di terra anche questa è diritta e da qui in avanti tratteggiata perché qua ci sarà la casa ecco ci fa ecco fatto a questo punto io che cosa devo fare devo cominciare a disegnare i muretti non fateli troppo alti perché tutto questo è mare vedete tutto questo è mare quindi se voi fate il muretto che arriva fin qui non avete più mare il muretto arriva meno della metà allora facciamo un murettino e arriva fin giù poi c'è la ringhiera questa che è un po più bassa del muretto e la faccio così posso fare anche le mie brave aste ecco fatto le sto andando un po veloce ragazzi ma poi voi sarete sicuramente più precisi poi facciamo questo muretto che è alto quanto quello lì e quindi lo facciamo partire da qui un po più alto poi però c'è un altro pezzo che sale ancora più in alto allora salgo lì e vado avanti vedete che arriva fino a dove c'è l'inizio della casa ecco fatto mi fermo qui adesso se voglio raddoppiare il muretto posso fare in questo modo vado un pochino in diagonale vedete e tiro una riga che congiunge la diagonale con la fine del foglio eccoci qua e questa viene giù vedete che diventa un muretto più spesso la stessa cosa la faccio di qua lineetta in diagonale scendo e anche qua tiro diritto qui faccio la stessa cosa salgo un po più in alto vedete linea diagonale e vado avanti guardate che il mio muretto è già diventato più spesso l'avete visto? ok adesso vogliamo disegnare la casa che è l'elemento più grande ricordiamoci che inizia la dovera tratteggiata guardate parte da qui dalla base del muretto e noi la facciamo da qui la facciamo andare fino in alto vediamo se riesco ad andare dritta o se sono un po' ubriaca vi rendete conto che questa parte che io avevo disegnato verrà eliminata verrà eliminata perché è nascosta guardate qua in alto quando arrivo al tetto non vado fino in cima mi fermo un po' prima e salgo verso destra in diagonale perché la casa deve darvi un'idea di avvicinarsi a chi guarda eccola lì la stessa cosa faccio qui in basso guardate da qui scendo verso l'angolo del foglio anche qui scendo verso l'angolo del foglio ecco adesso che ho disegnato questa casa tutte queste linee delle montagne e delle linee di terra risulteranno nascoste allora io ho preso il mio strumento gomma e le cancellerò voi avete la gomma quella seria io invece ho questo pallino ma l'idea ce la dà lo stesso eccoci qui allora già vedete che c'è la casa completamente disegnata che nasconde parte delle montagne e parte della linea di terra ecco adesso posso riprendere il mio disegno quindi riprenderò facendo gli archi del porticato vedete che arrivano più o meno fino alla linea di terra del mare eccola lì bruttini eh voi fateli meglio e questo che arriva fin su e si nasconde lì perché vedete che si ferma lì ecco sì questo qui quello che ho fatto io è proprio bruttino ma voi sarete sicuramente più bravi in alto facciamo le finestrelle sembrano un po' arrotondate ma insomma se poi anche le fate dritte non succede niente e questa è l'altra finestrella anche questa bruttina da qui parto per fare il tetto ecco fatto la mia casa qui posso unirla che mi ero fermata prima la unisco ecco a posto adesso mi manca da fare il muretto con il vaso dei fiori vedete che si appoggia sempre qui dove c'è la seconda linea di terra e io faccio la stessa cosa anch'io guardate mi appoggio qui e faccio questo muretto scritto così ecco fatto muretto poi c'è l'altro pezzettino da questa parte e lo faccio anche di qua ecco a posto poi faccio il mio bel vaso anche qui il vaso vedete che copre una parte del muretto allora dopo noi andremo a cancellare allora facciamo un bel vaso grande ok qui farete tutti i vostri fiori sì il mio sembra un omino che si è spaventato ma insomma ecco e chiudo il mio muretto cosa mi resta da fare ah i cipressi eccoli qui li faccio proprio vicino all'angolo del muretto ne ho uno più basso e uno più alto i cipressi hanno questa forma vedete è molto bella e anche molto facile da disegnare eccoci qui questi sono i due cipressi e mi manca la barchetta e andiamo a fare qui vedete che è proprio dove inizia la montagna allora io qui disegno la mia barchettina allora di questa barchetta ha anche la sua scia nel mare vedete fa l'ombra del mare ma insomma adesso non preoccupiamoci troppo dell'ombra del mare questa è la vela eccola lì la mia barchettina e infine posso mettermi a fare i miei fiorellini che erano qui sulla muretta e che scendono un po' in alto poi col colore noi li aggiustiamo ecco abbiamo fatto tutto direi proprio di sì che ve ne pare? mi sembra venuto molto bene a voi resta adesso il compito di colorare guardate bene i colori non sono dati tutti nello stesso modo proviamo a fare un esempio allora se io ad esempio volessi colorare le montagne vedete che sono grigie ma non sono tutte grigie uguali allora c'è un grigio più chiaro un grigio più scuro allora la parte in alto mi sembra colorata in grigio più chiaro ecco provo no? poi c'è la parte in basso che ha un grigio un po' più scuro allora io posso sfumare e l'ho fatto fin troppo scuro facciamolo un po' più chiaro allora ecco qui posso sfumare leggermente vedete? stessa cosa se voglio fare il mare d'accordo? allora vicino alla linea di terra è più chiaro quindi lo faremo ad esempio devo scegliere un colore che sia migliore perché questa qua è proprio bruttino allora proviamo a fare vediamo eh se mi viene un colore migliore iiii facciamo questi colori qua dobbiamo fare questo sì vediamolo ecco allora ad esempio là vicino avrete un colore tipo questo ok poi potete giocare aggiungendo sempre un po' più di scuro perché man mano che si avvicina vedete al balcone è sempre più scuro quindi voi mescolate le vostre matite che può essere l'azzurro mescolato al nero o al grigio vedete che se io aggiungo diventa sempre più scuro poi chiaramente le matite colorate sono molto migliori rispetto ai colori che uso io perché i colori che uso io sono i colori del computer voi con le matite colorate potete fare quello che volete e state attenti a sfumare un pochettino avete imparato siete stati molto bravi ecco una cosa che non vi ho fatto vedere è se volete colorare quando colorate la parte di pavimento della terrazza vedete che ci sono anche delle sfumature quindi se questo è un begiolino pratica è un begiolino chiaro chiaro qui lo farete un pochino più scuro quindi lo mescolerete con del grigio sono proprio curiosa di vedere che cosa riuscirete a fare buon lavoro ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti